Ciao a tutti, allora nel quarto episodio ci eravamo lasciati con lui che perde due dita e niente, chippa gozza in terra, infatti si dà un po' di gozzata e niente ora Ciccio sarei andato a Magalli, che avevi detto te, mandorlini dal dietro, vabbè insomma lui con le tante tagliate i dita, o le dita, vabbè dita, andiamo a vedere, andiamo a vedere, che c'è, ora voglio intanto sapere cosa fa, vabbè, destra, io voglio andare via, c'è scritto uscita, come minima è chiusa sicuramente, ebbene è più strano perché è tanta zona vai, 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 vai è proprio, ho scelto il posto giusto per nascondere vabbè comunque resta il fatto che la porto è una volta bella eh ciao, hai chiedato dalla giù io aspetto un attimino ma non vi pare che un po' di tue, vai, ma ti va, ti metti, e allora la scatola di là che? ma guarda, che cazzo farsi è io eh, io non voglio vedere ma vedi, va giri, ti vedi vai, ci doverà diritto, scappo a destra, a destra a destra cosa ti ho già preso? e lei, ma lo corre lascia il sole qui, 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 qui no, non c'è, c'ho le chiave, fanno vedi va, fa un culo, te e tu ma andai, vai di qua, esci, vai no, risali lì sopra, vai, va indietro vedi vai fa un culo, ma va, ma voglio guardare no, tutto il sangue mi mette paura poi, mi mette cirena mi dà proprio noia nell'episodio precedente, anzi, nell'episodio precedente l'abbiamo visto ma come minimo, mi spunterà ti fa beccare vai, ti sconti nel buio, nel buio non ti vedi, lavati cioè, lava la luce guardati lui non ti deve vedere comunque dopo, te lo dirgli già perché se no, tanto tempo mi arrivi la sua stacca, non lo so lì quello lì sì, ma no, perché sti scemo cioè, anche, no, perché quello oioioi dica ma anche di lassù non ti vedi tanto vedi io ti ho dovuto la verità ma la non ci sanno lui lui, la vede o no? questa no, però sì però sì, però sì però non è che sta tanto che lui è lì vai fermati fermati, aspetta e ma tu andavi? fai muo, non lo so vabbè, male male vanno a torneare la spazi subito per la bambina ti spostano sentarli dentro boi, te lo sento il giorno non so quanto tempo ci ho messo mi capivo non ho capito se viene una cosa se fa ma non ci ricordo di tu ma non ci ho detto ma cane sai che t'ha beccato non c'è t'ha beccato non c'è t'ha beccato perfetto vai via ma la sei che t'ha beccato ma vai bianca vieni vai scappa le scappo dove? dove scappa? c'è di va? vai vai per fare tutto il giro tutto il giro vai dove ora? a destra la porta vai 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 tutto il giro vai e fai il giro vasculo tu non fai l'acqua fai l'acqua tirati ora scappa c'è una porta di colta ma ti ris minimum tu non fai durch costa forse guarda che come non penso faccio io non sa di una sigla ma non è vero si diverte guarda divertimento assurato non ti è proprio non riusci a me che si deve fare guarda guarda che lui in teoria fa suè giù lì qui siamo dove è prima no? si qui si deve salì e qui praticamente la luce ma non ci sarà ci sarà da ora ora lui spunta lì Vedi! Vedi! Vedi un culo! Io ora non mi rivolgo a levare la chiave! Nasconditi lì! Io sinceramente non mi rivolgo a levare la chiave! Morca troia! E' schifo! Ti cari in me! Apri via! Vedi! Sì! 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 Ma dove? Dove devo andare? Io non so se lo passo! E te vai! Aspettaci! Ok ora sai sbagliare! Cazzolini! Cazzolini! Io non ne esco! Finchè non passa! E invece si posta anche fino a domanda! Non so se passa! Tanto quando apro la porta! E' qui! E' qui! Hai detto? Si! E' qui eh Simone! Ma lo favo girare! Tanto una merda che c'ho! Appena apro me lo trovo davanti! Ecco si! Poi... Mi devi spiegare come si fa dentro! Questo non ha detto via! Apro? O lavò la spacca... Ma io dovete andare? Lavare e scappo! Provando a destra! Mi stai scendendo via! Vado? Si! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mi stai scendendo via! Ma hai la secca! Ma niente.. Ma ne vuoi ne vedi? Ma hai la scontola! Ma che vai a destra! No! Fu... Ma che va a destra? va dove vai? perché vi chiamo passati bene perché passa così no? gira a sinistra sinistra ma non c'è posto è lì vai ora sinistra scusa dritta ancora ancora adesso vedi c'è una porta vai vai a sinistra ciò viscono uno vai 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 ancora ora vai a destra vai dritta vai a destra dove? salta salta sul letto salta ancora posto vai usci che urlo scusa ma ancora io vi aprivo filo di scorsoli anch'io eh? no non c'è anche io io vi aprivo il discorso d'altronde che le di prima ferro c'è anche le delle episodi di prima ora vedi dove siamo non lo so sabotaggio leva vai cioè lei aveva il mio pane nel cesso lo sai e apriamo qui ma come ti? se la sentiva vai si ormai strano prima me l'hai detto poi vuoi sapere questi documenti video ma è un po' tutti scessi poi li sentiamo la chiave o le cose no no guardate il cazzo la chiave ora voglio vedere se esco me lo ritrovo via no no non ce l'ho mica ma dove siamo? dove sta una stanza nuova? c'è una croce di Cristo vedo ma io mi cazzo sia ma io ma qua è la chiave vai vai ma che culo rotto devi vieni questo non è andata si chi c'è ora? ma che scherzi dove andiamo andato? vado lì vado lì c'è una porta laggiù in fondo vado lì no ma è chiuso ma era via era lui? ma è in buio mi ascolta fermati sì fermati ok mi c'è malato ma fermo fermo vai dietro scappa ma dove dove? va la scappa 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 gli va? vai no non lo va a fare dove cazzo vai starta vai la spaccatura porta vai sinistra vai 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 vi andò sinistra dove cazzo no siamo tornati lì sta buono no o qui non posso startare io vabbè adesso lui ti segue no non lo so no no non lo so al limite ci si nasconde no 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 fa tutto il cino vai là vai vai non lo so non lo so non entra dentro lui vai che ti metterà andato c'è l'ascensore vai vai dritto no fa no sinistra vai 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 destra destra vai 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 sinistra sinistra vintra una porta vai vai allee dove era la sinistra come vai fischer chandalli ah uuuh ce l'ho fatta eh ma lui dov'era uuuh ai oi oi comanda nul disporoteva l'aprima vai 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 fuori oh forse sarà finito ma non è così di favore giuditi intorno forse apri devi fare qualcosa qualcosa a me ah c'era qualcosa luce che è vuoi andare lì dai lei deve andare lì aspetta l'unione cosa deve fare eh lo so ma fammi girare un attimo vai oh lui è morto tanto no vabbè vai vabbè addio vai eh che problema c'è a sinistra sì qui lo so ora ora lui non si è messo di giù però non è cosa non è giù perché c'era uscita prima non so se l'ha vista eh l'ho vista ma tanto mi sa proprio che è un ashes che eh non mi sa che mi passa che faccia di fare sì sti bui nel muro c'è qualcosa non so per te fanno pupù no no vai là ma è schizziato vai 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 sai chi c'è lì vai chi è no vai vai eccolo adriano cagliani un po' sandro o sandro cerca padre martin all'estero eeeh non è un casino no va 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 no no devi uscire devi uscire vabbè ma cosa cazzo me ne frega di padre martin a me eh a destra fermo oddio ma qui ci sono vado a destra no la unica qui si vede uno aspetta magari c'è una batteria magari c'è un schizzo magari eh forti 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 non si vede ora qui niente costo di merda costo di merda costo di merda ah grazie pila insomma guarda cosa fa qui pipirlo qui intanto ci si può andare destra nemmeno ah passami sotto tanto c'è no qui non c'è nulla adesso torna indietro ah eh no del cazzo non ha saltato non nemmeno ah non lo rivolgo qui qui non si prende forte per dire niente no umore ma nessuno non mi sono né indietro ma a sinistra ancora? non so se è chiusa la strada ah 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 guarda guarda cosa c'è qui però stavolta no eeeh ah ecco no no amico qui non ci siamo venuti qui non ci siamo venuti si ah no allora si perchè vedi noi siamo passati lì ah già poi siamo andati indietro ma qui dove sarà prima ok questa non l'abbiamo vista ma l'abbiamo vista no io sono passati lì no fanno vedrai c'era il costo dove c'era a sinistra a sinistra dove? ora a destra ora a destra ok secondo me c'è la nostra ancora a sinistra vai sinistra destra vai secondo me c'è la nostra lì vai ancora allora qui non ci può passare giù ti abbassi tipo no no vedi eh allora vai lì allora no 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 oh oh qui oh c'è il zambio c'è il zambio vedi oh che cazzo c'è ma c'è una stadina con fondo che puoi fare e qui per fare se basta visto lui con il dito comunque si no no o lui o lui ma la caglia attiva gli spulzatori per segnare le tue eh ora devi trovare ora diventa tramata cosa si va ma 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 ora ci serviva qui sarà il porcellino di sicuro si si scherzo vai qui tanto no 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 ma no no vai no 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 c'è una cosa che si può imparare dentro qui qui e uno no no prima di aprire le barbole poi dopo lo sapevo sempre queste barbole oh c'è uno eccolo lì guarda vedi allora senti il frenoso qui non ci si può nascondere e invece si puoi sentire nemmeno magari fa buono passerà ecco senti come se bello si va è bello ma come fai a vado 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 si prova si prova dove sono le barbole ma guarda il laborio un po' più incassinato no spero sia vivo no 1 no vai si ora nello parche di scena ora 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 aspetta fatevi forci non ci può vedi non ci passa da lì Vai Cambia la pilavola Vai Non fa cambiare Vai andai dritto Ora prendo lo schizzo Me lo sento Eccolo E' lì Aspetta No è lì Se io sto qui Guardo dove va Bello Intanto vinci con passata Non ti vedi Non ci passa Ora dove devo andare A dritto Io ora ti sto dando Trappendiazione Ma va bene o male Io vi do tanto Zomperato di questi gioi Eccoci Vai Lui non m'ha visto Cazzo guarda Eccoci Da sentire Ma non ti vedi Sì dietro Ti vedi solo se va avanti Bello Guardate me ne fa Rincorzioni pesanti A dritto Vai Tutto a dritto Tutto a dritto Sotto a letto Vado Corri Corri Lo vedi come sento Vai 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 Buona Smonte Vai vai C'è prima di ente Vai Mi sento Mi sento Mi sento Mi sento Lui Vola Visto Ora dove è buono Scaffa di atti Va Ancora Mi sento Sì Sì Ora Vai Sì Vai Vai dove eri Prima Vai Non era Vai Ma che si Vai Cazzo Mele Vai 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 Una varvola L'abbiamo Paravigata Poi Ora Ma da che si andava Vai Lui 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 Lo vedi Ecco Come perdi tempo Come perdo tempo Vado Non so dove è Bebati lì Patti pilla la mano Faccio Io Non lo vedo più io Aspettiamo un attimo Ti faccio io Via Beh Io faccio Io guardo Vai Andiamo avanti Manca l'altra valvola Un'altra valvola Oh Un'altra valvola Un'altra valvola Un'altra valvola io sono tornato ma che deve aprir forte come un idiota sto visto tu lo sai tu lo scegliamo vieni vieni no che cazzo vai avanti 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 ora a sinistra accendo la luce se mi nascondo mi becca sono messo in picca bello vieni indietro ora si è aperto con il triangolo 0 file 0 su 10 ora siamo andati cos'è la valvola c'è la valvola è l'interruttore ah è l'interruttore era di là no è lì subito qui e qui su su cerca padre martin padre martin padre martin ma come giocchi è lì è andato a vedere prima è andato a vedere prima dove c'era il costo e il fuo dove era lui è andato a vedere prima dove c'era l'interruttore dove c'era l'interruttore dove c'era l'interruttore dove c'era l'interruttore qui c'era la uscita addio ma che cazzo è lui a me ha fatto paura a te che ha fatto addio ma guarda dove era andato a riferire che bello vi saluto il cielo mamma mia di ma pure voglio uscire da questo posto oh meno male via voglio uscire da questo posto voglio uscire la prossima volta ci giocate voi invece di ridere ve lo dico io perchè voi ridete lui sa già che ma voglio uscire da che cazzo c'ho andato cerca padre martin ma chi è? guarda un po' è il piano eh che ora è il piano eh ora ora si ride adesso ma io vedo tutto qua vi è andato con la luce dei cosi no vi è andato con la luce dei cosi vi è andato con la luce dei cosi ma padre martin è andato con la sera c'è il tipo se lo so è l'acqua non è traicela se lo so non cazzo eh ma c'è anche poca batteria no non lo usiamo dai sì sì non lo so io vado a dritto con lei c'è c'è ma te ma se siamo usciti no ma perché devi cercare padre martin ma vai a casa alla tua moglie vai sì il padre ha la moglie che è no padre ma vai dove andato davidio che cazzo se non lo so ve lo so devi mettere la luce è un'alasso è un'alasso guarda se mentre la sapete di qualcosa devi dire vai le scave c'è 2060 beh sono contento molto contento ma la sinistra non lo hai vista non mi la veste fama culo ora vuoi vedere se finisca le battaglie no infatti non è no vedi ti devi andare con la cosa di capite ci ci sta tre ore di allogia, dai un'occhiata veloce chi c'è? chi c'è? chi chi è? dai a chi vi fuori a rompercazze c'è una nuova delle cose qui? eh per forza mi serve la chiave ora dove la trovo la chiave non mi fa il forno allora l'uscita è niente io ne ho paura io ne ho paura è aperta? è aperta? è aperta è aperta è aperta c'è poche batterie io non so cosa si concludi l'episodio lì? no ormai guardiamo però bisogna trovare la chiave dai concludiamo l'episodio lì e si fa quello di nuovo sennò poi si scrive l'episodio lì e si fa quello di nuovo si scrive l'episodio passai lì metti le virgolette guarda guarda ti fai della batteria girati e quello lì devi servire la chiave no ma non devi essere ancora vai a sinistra no è ehm tu mi sbagliate dai concludiamo l'episodio lì si fa il prossimo va bene vai no no concludiamo lì vai concludiamo lì detto questo finisce via finisce via e ci si vede al prossimo sperando la batteria la su anzi la su no tanto un duro per la batteria esista un po' e che si rassano nel pane vi hai detto questo ciao a tutti al prossimo episodio ciao ciao dal mister con i fan ciao dai no ciao ciao ciao